ciao sono alfredo sono uno degli organizzatori di musica da bere oggi siamo qui ospiti dello spazio lampo per la giornata della festa della musica in particolare abbiamo organizzato mdb connect è una situazione organizzata in collaborazione con rock it e doc servizi dove ci sono stati 13 in ar produttori manager musicali che hanno fatto dei speed di 15 minuti con una marea di gruppi e di artisti che hanno presentato loro il loro progetto musicale hanno avuto in cambio preziosi consigli per poter crescere e migliorare il proprio progetto musicale e poi abbiamo ovviamente il palco live con 10 band scelte tra i finalisti e i vincitori delle passate edizioni del nostro concorso sono 15 anni che siamo alla ricerca della musica del futuro e qualcosina speriamo di aver trovato ciao grazie a tutti e buona musica grazie a tutti